non mi stai andando hai sentito Audrey Bourgeois no? Adriano non puoi indossare il cappello non ci sono i glitter non è affatto di tendenza ah ah ecco di qui ti stanno aspettando ah ma in realtà io non... i camerini sono da questa parte forza sbrigati ah ok e questo che cos'è? mamma lei è il Marinette di Pacella Marinetta e questo cappello l'ha fatto lei perchè si crede è una stilista l'ha perfino filmato guarda io non sono io si tratta di un'altra Marinette io lo stavo solo portando Marinette dobbiamo andare mi sento disagio forse perchè hai un aspetto ridicolo ah 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 ah